E' stato presentato ieri pomeriggio ad Adrano, all'interno della sala Lucio Battisti di Palazzo Bianchi, il documentario I riti della Pasqua ai piedi dell'Etna, che approfondisce in maniera accurata e con immagini ricche di suggestioni le celebrazioni della Settimana Santa nei comuni di Paternò, Biancavilla, Adrano, Bronte e Randazzo. L'opera è promossa dalla regione siciliana, assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana. Soprindendenza per i beni culturali e ambientali di Catania, ideatrice e curatrice del progetto, la soprintendente Maria Grazia Patanè, coordinatrice scientifica Maria Teresa Di Blasi, a produrre il video dal Vivo Entertainment in collaborazione con Ivi TV, ad occuparsi della regia Maria Grazia Castro. Alla presentazione sono intervenuti la soprintendente Maria Grazia Patanè, l'archeologa Maria Teresa Di Blasi, l'ex deputato regionale Nino Dasero, il sindaco di Adrano, Pippo Ferrante, ha moderato l'incontro Giuseppe Buo. Il documentario approfondisce le giornate della passione e morte del Cristo in diversi centri etnei dei versandi sud e ovest del vulcano, sino all'esplosione di gioia della domenica di Pasqua, con immagini fornite da diverse emittenti locali. Un vero e proprio viaggio in doppie lingue, italiano e inglese, per far scoprire al mondo intero i riti teatralizzati della Settimana Santa, da vivere non soltanto in video, ma anche e soprattutto di presenza. È andata molto bene, c'è stata una discussione di pubblico, un successo veramente che ci lusinga, e ci ripaga anche di tanto lavoro, perché organizzare, produrre un documentario di questo spessore è abbastanza difficile, perché si rischia a volte anche di cadere in una sorta di folklore autoreferenziale. Naturalmente noi come sovrintendenze beni culturali abbiamo tutt'altro progetto e altro obiettivo, che è quello di far superare il provincialismo, qualora ci fosse, attraverso uno strumento che può essere quello della conoscenza di un rito liturgico, come quello in occasione della Settimana Santa della Pasqua, ma che può essere naturalmente anche un richiamo delle tradizioni culinarie che abbiamo voluto appositamente inserire nel documentario che oggi abbiamo presentato. Innanzitutto è un'iniziativa importante che rappresenta la storia, le tradizioni, che non tutti conoscono e quindi il territorio cresce, se cresce anche la conoscenza, perché la conoscenza è oltre ad essere un momento di grande valore, è un momento anche di grande prospettiva. Oggi il turismo vede Siviglia come un momento in cui i riti della Pasqua diventano grande polo di attrazione per il turismo, ma anche un momento di riscoperta di tradizioni. Con queste condizioni io ritengo che l'iniziativa di oggi è un'iniziativa a cui va dato un plauso alla nostra sovrintendente dottoressa Patanè, perché ha coordinato questo progetto, perché è un'iniziativa direttamente promossa, anche se da noi sollecitata, e che di fatto dimostra come questi modelli possono essere non solo sviluppati, ma diventare realtà di crescita per il nostro territorio. Grazie a tutti!